Ciao amiche, ciao amici, bentrovati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Video dei prodotti terminati beauty del mese di giugno. Ho tantissimi prodotti, iniziamo subito perché su qualcuno mi vorrò dilungare un pochino di più. Partiamo subito insomma. Ho terminato questa confezione di assorbenti OB Pro Comfort. Questi sono nella dimensione super, pagati da acqua e sapone 1,80€. Faccio un appello a Luana del canale Gigi Topax che in un suo video dei prodotti finiti mostrava questi assorbenti, forse in un'altra variante alla camomilla, ora non mi ricordo, no perché sono i Tampax che sono alla camomilla. Comunque sia in un'altra variante, mostrandoli ad un prezzo di 7€. È una cifra folle, diceva appunto di averli comprati in farmacia faceva notare quanto appunto li aveva pagati. Io non capisco perché questi qui nella grande distribuzione, quindi acqua e sapone, tigotà, costano una cifra comunque sia accettabile. Nei supermercati normali, che so, tipo Coop, anche gli discount Ecom, sono leggermente più cari, ma nelle farmacie raggiungono praticamente degli importi stratosferici. Non capisco perché, quindi Luanita, se ti servono vai da tigotà perché li trovi a poco. Proseguiamo con questo bagno doccia al muschio bianco di Vidal. Questo l'ha utilizzato prevalentemente mio marito, ma l'ho utilizzato un paio di volte anche io. Mi piace tantissimo questa fragranza al muschio bianco perché non sempre i bagno schiuma, i doccia schiuma al muschio bianco mi piacciono. Alcuni hanno un odore troppo chimico, questo mi piace tantissimo. Tant'è vero che ho comprato, questi erano 500 ml di prodotto, io ho comprato le versioni piccine da Risparmio Casa a 59 centesimi, l'una di doccia schiuma, sempre al muschio bianco. Se vi interessa vedere cosa ho comprato da Risparmio Casa, andate indietro perché è uno degli ultimi video che ho caricato. Terminate queste salviettine qua della Fresh & Clean Baby Comfort. Queste erano 60 salviettine, un prodotto made in Italy, tessuto max spessore, 98% di acqua purissima, senza alcol, formula extra delicata, buone, imbevute realmente e molto, dalla prima all'ultima. Pecca di queste salviette, le avevo pagate in un pacco da tre che molto spesso viene messo in offerta da Acqua e Sapone, le avevo pagate sotto i 3 euro, il pacco da tre, sono leggermente piccoline e hanno la pecca appunto di questa chiusura qua. Per l'uso che ne devo fare io vanno benissimo, mi metto però nei panni magari di una mamma che deve portarli in giro, rischia che le si aprano magari nella borsa del piccolo e soprattutto che ha un pupetto da pulire, devo utilizzare una montagna di queste salviette perché sono davvero davvero piccine per andare a pulire il sederino di un piccolo. Terminato questo sapone mani con antibatterico pH 5.5 della Bioxcare, igiene sicura, igienizza rispettando il pH della pelle, 500 ml di prodotto, questo l'avevo comprato da Acqua e Sapone, l'avevo pagato 1,80 euro, è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo perché andava a pulire le mani, andava quindi ad igienizzarle, ma al tempo stesso non andava a seccarle, come succede quando si utilizzano tutti questi saponi igienizzanti. Ecco, davvero un buonissimo prodotto che ricomprerò sicuramente. Adesso ne ho comprato uno analogo al DM, non l'ho ancora messo in uso, ma sicuramente con l'ADM l'ho pagato meno, ma è anche più piccola la confezione. Questo aveva un rapporto, cioè quantità-prezzo davvero eccellente, ma era in offerta. Terminato il mio amato Neutromed APH 3.5, questo è con azione antibatterica, con complesso micellare, effetto deo fino a 12 ore, approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico, 200 ml di prodotto, io questo lo compro, lo ricompro, lo saccompro, cioè è il mio preferito in assoluto, questo APH 3.5. Esistono anche delle varianti APH differenti, esiste anche specifico per l'uomo, devo dire la verità che il mio preferito è questo qua, anche perché io penso di aver comprato sempre e soltanto questo, se non qualche volta qualcun altro, perché questo non c'era. Questo a giro lo mettono sempre in offerta intorno all'euro, o acqua e sapone, o risparmio casa, e così via. Allora, terminato questo olio di mandorle dolci di Planters, era un olio sia per il viso che per il corpo da massaggio, è un prodotto che non mi è piaciuto assolutissimamente per niente, era un prodotto che mi era stato inviato da Planters un po' di tempo fa, non mi piace assolutamente, è un prodotto che non si assorbe mai, che non, cioè, sia che lo mettiate sulla pelle asciutta, bagnata, non andate a risciacquare, questo prodotto qua non va via con niente, neanche con le cannonate, quindi un prodotto assolutissimamente no, no, no. Terminato il bagnoschiuma borotalco, anche questo è uno dei preferiti di mio marito, ma è in realtà il mio preferito, con profumo di borotalco, effetto borotalco sulla pelle, so che di questi ne esistono anche tante varianti, con fragranze diverse, io prediligo quasi sempre questo classico. Un buon prodotto. Poi è terminato un dentifricio colgate Max White, 75 ml di prodotto, questo era quello blu, vedete, non aveva però quelle particelle azzurranti, sbiancanti, quelle particelle blu scuro, che praticamente vanno in tutto il lavantino, non le togliete neanche con le cannonate, questo mi è piaciuto, infatti io quando l'avevo comprata avevo il terrore che fosse quello con i pallini blu. Buon, buon prodotto. Ho terminato sempre un altro Neutromed APH 3.5 e sempre per quanto riguarda l'igiene intima, ho terminato questo Nidra Intimo Latte rinfrescante con antibatterico APH 3.5. Anche questo è molto, molto buono, tra i due preferisco sempre il Neutromed, però anche questo spessissimo va in offerta, è un bel bidoncione da 500 ml e rispetto al Neutromed, questo è anche un filino più denso, il Neutromed è molto più acquoso, sono buoni entrambi, direi che sono i miei preferiti. terminate queste veline della marca quando è che è il marchio rivenduto da Tigotà, in realtà io non l'ho comprata da Tigotà, queste qua ma le ho comprate in un bazar cinese perché ero lì dentro che cercavo delle cose e avevo appunto queste veline. Poi ho terminato questo prodotto qua che è assolutamente fantastico di Roger Galet, le vinaigre de beauté. Io non so se lo facciano ancora questo prodotto qua, è una sorta praticamente di tonico barra essence che va praticamente a ripristinare il pH della pelle dopo la detersione ma va ad apportare quel quid di idratazione necessario a far penetrare i trattamenti successivi che andremo ad applicare sul nostro viso in maniera ottimale. Un prodotto buonissimo che io avevo comprato in super offerta scontato da Coin. Adesso sto utilizzando un altro tonico che non mi piace per niente, l'ho comprato perché vado dietro alle cose che sento su YouTube, bocciatissimo, vedremo poi finito appunto quello lì cosa comprerò perché a me piace sempre piace sempre cambiare. Terminata questa crema corpo di Yves Rocher in una versione natalizia, io avevo questa crema da 200 ml che mi era stata mandata in un pacco da una ragazza che mi segue, Tina, a cui mando un enorme bacio e anche a sua figlia perché so che mi segue anche la figlia di Tina. Questa crema corpo di Yves Rocher, questo dice latte corpo, devo dire la verità. Allora, molto buona, andava a idratare molto bene, si assorbiva nel giro di poco. pecca di questo prodotto, ma pecca soggettiva perché sono io che non amo questo tipo di profumazione, non mi piaceva la profumazione ai frutti, ne sapeva di frutti di bosco, frutti rossi e così via. Molto buona, la consistenza più che di un latte è una consistenza un pochino più cremosa, ma un buonissimo prodotto. Anche questo, scusate, io non compro quasi mai prodotti di Yves Rocher, ma devo dire che questo mi è piaciuto. Ho terminato questo trattamento della Air Company Professional No Fritsy Treatment. Questo era un prodotto che andava, che doveva essere applicato una volta fatto lo shampoo, diciamo come ultimo trattamento, per evitare l'effetto crespo dei capelli. Io l'avevo comprato in uno stock ai fallimenti, un buon prodotto, non ricordo quanto io l'abbia pagato, ma sicuramente non l'ho pagato a prezzo pieno perché il suo prezzo pieno essendo un prodotto professionale è anche piuttosto elevato, ma un buonissimo prodotto. Si notava la differenza quando l'applicavo da quando non lo andavo ad applicare. Terminata questa crema di Planters per il corpo ha il tè e gelsomino. Il tè praticamente non si sentiva più per niente, si sentiva il gelsomino più che una crema. Questa era davvero molto molto fluida. Non mi piaceva assolutissimamente il suo potere idratante, lasciava anche molto spesso la scia bianca se voi abbondavate leggermente. Un prodotto che non ricomprerei sicuramente. Io ho anche il profumo di questa linea qua che mi è stato inviato ma il profumo mi piace abbastanza anche se non dura tantissimo ma la crema praticamente no, assolutissimamente no. Abbiamo una serie di creme corpo qua ragazzi ve lo finisco. Ho terminato quest'altra crema BB Body Balsam di Ishi questo è una crema da istituto di bellezza è un balsam idratante e ricostituente del pH per il corpo. Buono molto buono anche in questo caso non mi piace cioè mi piaceva il potere idratante come andava a rendere la pelle la pelle risultava bella liscia compatta tutto quello che volete ma non mi piaceva il profumo perché ne sapeva di fragola e io non amo le profumazioni fruttate ma in quanto a potere idratante buonissimo. Terminata quest'altra crema invece mani e unghie di Codalico se me l'avete vista un sacco di volte è una buonissima crema per le mani 30 ml di prodotto profumo paradisiaco poi ho terminato un dentifricio Mentalent con fluoro e calcio igiene quotidiana protezione della carie ideale per adulti e ragazzi mi è piaciuto 100 ml comprato da risparmio a casa intorno ai 50 centesimi 60 centesimi risparmio a casa a giro mette in offerta o i Mentalent o pasta del capitano o i colgate a 59 60 centesimi giudì poi terminato questo detergente idratante per pelli da normali a secche di CeraVe senza profumo allora questo prodotto qua è un prodotto che è per me un nì nel senso deterge bene la pelle non mi piace il fatto che non faccia schiuma è secondo me però un prodotto che per le pelli secche perché da normali a secche è un prodotto che secondo me è insufficiente per le pelli estremamente secche questo va bene secondo me per le pelli normali ma va bene anche per le pelli per le pelli grasse non è non è così anche se esiste proprio la variante per pelli grasse secondo me questo non è così ricco per una pelle per una pelle secca terminate queste salviettine intime della fria testate sotto controllo ginecologico con estratti di timo e calendula sono le mie salviette intime preferite non sono però gettabili nel bici fate attenzione ho terminato questo scrub di cui si è tolta tutta la scritta sanctuary spa salt scrub qua la vedete forse meglio l'avevo comprato su look fantastic l'avevo pagato pochissimo ora la profumazione non si sente più aveva una profumazione molto simile al profumo eliotrop di etro buonissimo buono buono davvero dovessi ritrovarlo lo comprerei sicuramente adesso invece ne sto utilizzando uno di o cavoli non lo so lo vedrete nei prodotti finiti ecco se mi viene in mente durante il video ve lo dico poi cosa abbiamo ancora un olio per il corpo questo warm up alla variglia questo era un olio per massaggi mi è stato inviato da un'azienda allora se l'olio di prima non si assorbiva mai questo si assorbiva e vi faceva seccare la pelle non sa comunque sia di vaniglia sa più di di mu questo ne sa di mu ha un profumo buonissimo peccato che potere idratante pari a zero terminato questo latte detergente di senbart al ai fiori di frangipane no è un prodotto che non mi è piaciuto non va a detergere il viso assolutissimamente non mi piace cioè io l'ho utilizzato quando non ero truccata il trucco questo lo rimuove con il lanternino con la fantasia poi ho terminato queste salviettine queste strisce depilatorie quovis 24 strisce depilatorie per il viso alla fragranza bacca di acai acai bisogna vedere come si dice come lo si vuole dire buone buonissime queste le ho comprate al super al discount in se sono molto più valide rispetto a quelle di marca queste sicuramente le andrò a ricomprare poi ho terminato ho terminato butto via questa lima per unghie perché è veramente sfracassata terminata questa saponetta questo sapone naturale antiossidante queste erano tutta una serie di saponette ve la faccio vedere che mi aveva portato mio marito quando era stato in un viaggio aveva fatto un viaggio di lavoro in cile buonissima poi ho terminato ancora questo deodorante di jean piubert il deopil è buonissimo profumazione buonissima un prodotto che mi piace tanto tanto uno dei miei deodoranti preferiti se non il mio preferito ma costa 25 euro 26 euro è vero anche che vi dura tanto ma ci sono anche altre tante altre alternative più economiche sempre il tema appunto di quelle saponette famose vediamo che ne abbiamo un'altra questa invece è questa di questo colore questa è invece questa è effetto rivitalizzante poi ho terminato mio marito in realtà ha terminato due profumi poi andiamo con i campioncini ginepro nero di erbolario e granato nero del profumificio del castello ginepro nero di erbolario lo fanno ancora granato nero del profumificio del castello che ora si chiama strega del castello cambia nome ogni minuto non lo fanno più persistenza super super pazzesca infatti hanno pensato bene di non farlo di non farlo più buono questo era davvero buono poi ho un po' di campioncini da mostrarvi no ho un substian occhi di cui ho già parlato diffusamente che è un buonissimo prodotto sia per diciamo la palpebra cadente va a diciamo a tonificare a se applicato con frequenza i lineamenti dell'occhio fa una sorta di effetto di effetto lifting poi questo siero di kills il retexturing serum un buon prodotto che ho provato in campioncino aveva un effetto sia ritexturizzante ma anche un effetto idratante buono mi è piaciuto mi è piaciuto tanto non avessi una marea di prodotti da smaltire me lo ricomprerai sicuramente poi ho terminato smeraldo questo profumo qua smeraldo di acqua d'elba mi è piaciuto questi sono profumi decisamente marini acquatici quindi deve piacervi il genere un campioncino di questo prodotto qua di fito che è è una crema da mettere sui capelli asciutti per andare ad idratare appunto le punte dice applicare quotidianamente sulla lunghezza e sulle punte asciutte senza risciacquo è un prodotto che a me non convince ancora del tutto ne ho altri campioni devo provarli allora afro che mi segue sempre mi aveva chiesto di questa del substian occhi se esisteva qualche altro prodotto la linea ha altre referenze in gamma tra cui questa questa crema che va a ridensificare i volumi substian riche è una crema che va a ridensificare i volumi indicata per le pelli normali e per le pelli secche una crema buonissima molto molto ricca che io straconsiglio a me a me i prodotti non è che facciano impazzire però questa io la consiglio vivamente così come consiglio il suo contorno occhi io ho anche una serie oltre a avere tantissimi campioni di questi da provare ho tantissimi anche campioni del siero che ancora però non ho provato quindi questo ve lo straconsiglio poi questo contorno occhi di aven allora questo contorno occhi di aven su mettiti a fuoco non è è un contorno occhi indicato per diciamo contro le rughe quindi per le pelli mature è una crema proprio anti rughe diciamo che questo prodotto qua indicato tra l'altro per le pelli secche ecco secondo me è un buon contorno occhi però secondo me per contorno occhi con molte rughe e molto molto secchi non è un prodotto sicuramente sufficiente però secondo me per questa stagione a me va benissimo canevo fresh day cream light una buonissima crema giorno canevo però ormai non viene più venduta in italia quindi ciccia che la compriamo e chissà quanto costa poi di sciseido ho terminato questo essential energy per gli occhi un campioncino di crema per il contorno occhi che dire i prodotti sciseido sono buonissimi sono tutti tutti buoni così come è validissima questa crema qua che è una crema anti rughe con spf 25 buona buonissima diciamo che tra i brand di profumeria è quello che mi piace di più insieme a sensai ma questo è davvero davvero un buonissimo un buonissimo prodotto a me piace moltissimo sciseido così come mi piace tantissimo anche a livello di profumeria profumeria commerciale ecco mi piace anche tantissimo claren che fa dei prodotti molto validi ne ho ancora una sempre uguale di sciseido infine di acqua d'elba questo scrub esfoliante per il corpo esfoliante delicato alla sabbia marina corpo un buon esfoliante ma davvero troppo troppo delicato anche per me che non amo le esfoliazioni particolarmente strong era davvero troppo delicato era un esfoliante che secondo me andava bene per il viso ho terminato i miei prodotti finiti scusate per il video lungo ma io consumo prodotti un'infinità un'infinità di di prodotti spero di avervi tenuto compagnia ovviamente se il video vi è piaciuto e non siete mai passate dal mio canale iscrivetevi al canale lasciatemi un like di supporto per qualunque dubbio curiosità un commentino sotto nella sezione commenti io non appena vedo i commenti quando mi è possibile rispondo molto spesso youtube mi fa anche lo scherzo di non farmi vedere i commenti mi fa vedere poi spariscono nulla detto questo vi saluto un bacio enorme un saluto enorme un abbraccio enorme ad afro perché come dice suo marito ho creato un mostro un bacio a tutti e alla prossima un abbraccio enorme